Benvenuti alla promessa. Se apprezzate i contenuti del nostro canale, vi invitiamo a mettere un mi piace e a iscrivervi per non perdere alcuna delle nostre novità. La promessa è il racconto di una settimana davvero affascinante, in cui Jimena fingerà una gravidanza per attirare l'attenzione di Manuel. Dunque, accomodatevi e lasciatevi coinvolgere dalla narrazione. La scorsa settimana, Pia ha finalmente firmato il contratto con la signora Cruz, garantendo il futuro di suo figlio, Dieguito, ma condannando tutti a dover sopportare nuovamente la presenza di Dona Petra nel palazzo. Nel frattempo, un evento di notevole rilevanza ha scosso le fondamenta del Palazzo della Promessa. Il capitano Lorenzo ha orchestrato una partita di poker in cui ha coinvolto Margherita, la cognata della signora Cruz. L'enfasi era posta su un affare di incredibile valore, il 25% delle terre della promessa. Questo gioco ad alto rischio è destinato a rivelare le sue conseguenze nella settimana in corso, mentre sia Catalina che Pelaglio vengono a conoscenza dell'esito. La coppia, sempre più unita e determinata a lanciare il loro business di marmellate, si trova di fronte a un ostacolo di rilievo. La Marchesa, con la sua astuzia e le sue tattiche, non fa loro le cose facili. La tensione è palpabile mentre si sforzano di far progredire la loro impresa e di affermarsi nel mondo delle marmellate. Il destino delle terre della promessa è in bilico, con un futuro incerto che si annuncia. Ma non è tutto qui. Un'ombra si è abbattuta sul palazzo con la misteriosa scomparsa di Jimena. La giovane donna sembra non sopportare più il peso della sua presunta gravidanza e ha chiesto ad Abel di organizzare una simulazione di aborto spontaneo, gettando il palazzo nell'incertezza e nella speculazione. Tutti si chiedono cosa accadrà in questa intricata vicenda e quali conseguenze si riverbereranno sulle vite dei residenti. Nel frattempo, la situazione legata al poker si fa sempre più intricata. Il capitano Lorenzo, nonostante le aspettative, non è riuscito a ottenere il risultato sperato nell'ultima mano contro Margherita. È riuscito a strapparle il 25% delle preziose terre della promessa. Un evento di portata straordinaria destinato a segnare la storia della promessa. Donna Cruz, umiliata e decisa a proteggere il patrimonio di famiglia, condividerà l'accaduto con i marchesi, facendo seguire una richiesta al capitano. Chiederà con forza che si faccia tutto il possibile affinché quelle terre non cadano mai nelle mani di sua cognata Margherita. Tuttavia, Margherita è una donna tenace e non accetterà facilmente il destino che sembra essersi compiuto. Ricorrerà persino a un notaio nel tentativo di far valere i suoi diritti. Ma la signora Cruz non è da meno. Organizzerà un piano segreto, in collaborazione con il capitano, per ingannare Margherita e impedirle di ottenere la sua parte della promessa. Il palazzo sarà teatro di sotterfugi, intrighi e colpi di scena mentre questa battaglia legale si svolge dietro le quinte. Il destino di queste terre e il risultato di questa lotta senza esclusione di colpi rimangono avvolti nel mistero. Ma è certo che Margherita, con la sua determinazione, non sarà sconfitta facilmente. Il palazzo della promessa è un teatro di passioni e segreti, dove ogni mossa è ponderata attentamente e ogni personaggio gioca una parte cruciale nel destino di tutti. Un altro avvenimento significativo è la scomparsa di Jimena. Sembra che non sopporti più il fallimento della sua presunta gravidanza e ha chiesto ad Abel di organizzare un simulacro di aborto spontaneo. Vediamo come si svilupperà questa intricata vicenda. Cambiando argomento e tornando a lunedì, Petra farà il suo trionfale ritorno alla promessa con la testa alta, sostenuta dalla padrona della promessa, Donna Cruz. Petra sa che gode del pieno sostegno della signora Cruz e non ha alcun timore di mostrare questa solidarietà di fronte ai suoi compagni. Romolo, il maggiordomo, ha chiesto a tutti di mettere da parte le divergenze nei confronti di Petra e di trattarla con il massimo rispetto, ma sembra essere un compito arduo. La donna è accolta con freddezza da gran parte dei presenti, tuttavia, non tutto è armonia nel palazzo della promessa. Lope, il cuoco, si trova in una posizione scomoda, costretto a lavorare come aiutante di Caio. La marchesa lo aveva destituito dalla sua posizione di cuoco principale a causa di una controversia che riguardava le marmellate. Ed è evidente che Lope non ha ancora superato questa decisione. Di tanto in tanto, si lascia sfuggire commenti inappropriati verso i suoi colleghi. Un comportamento che non è affatto accettabile per un uomo e il cui principale compito dovrebbe essere la preparazione di deliziose marmellate. La tensione è palpabile in cucina e l'atmosfera è tesa a causa delle divergenze tra i membri del personale. La padrona della promessa, Donna Cruz, ha il potere di influenzare notevolmente il destino di Petra e delle marmellate. La sua presenza e le sue decisioni possono cambiare il corso degli eventi all'interno del palazzo. Resta da vedere come gestirà la situazione e se supporterà Petra e il suo ritorno o se metterà ulteriori ostacoli sul loro cammino. Questi avvenimenti rappresentano solo una parte delle complesse dinamiche all'interno del palazzo della promessa. Un luogo in cui le emozioni e le tensioni si intrecciano in un intricato intreccio di relazioni e segreti. Nel cuore delle vicende della promessa, la determinazione di Catalina e Pelaio sta per dare i suoi frutti. Le loro attività nel mondo delle marmellate sembrano finalmente portare risultati tangibili. Hanno stretto un accordo di risonanza con un prestigioso hotel di Madrid, richiedendo una massiccia fornitura di marmellate. Lope, il cuoco segreto, lavora instancabilmente dietro le quinte per loro, nascondendo abilmente le sue azioni a Donna Cruz. Anche Pelaio ha dovuto tessere l'inganno con maestria, celando i dettagli al fianco di Donna Cruz. Catalina è grata per il suo compagno, sapendo che i segreti e le menzogne sono diventati il prezzo da pagare per perseguire il loro sogno. L'arrivo di Petra nel palazzo fornisce una copertura perfetta per il loro segreto. La donna astuta e audace inganna persino Feliciano, cercando di ritardare astutamente la consegna dell'ordine destinato all'hotel di Madrid. Questo stratagemma causa non poche preoccupazioni a Catalina e Pelaio, che devono fare i conti con la pressione e il peso dei loro segreti. Donna Cruz, con il suo sguardo acuto e la sua determinazione insindacabile, sembra essere pronta a complicare la vita della giovane coppia. Tuttavia, Petra è decisa a mettere in atto tutto il suo ingegno per aiutare Catalina e Pelaio a realizzare il loro sogno, anche se ciò significa sabotare l'ordine. La tensione all'interno del palazzo cresce, con ciascuno che cerca di preservare i propri interessi e segreti, rendendo l'atmosfera ancora più carica di suspense. Nel frattempo, il destino di Candela si intreccia con la verità che emerge. Avrà una conversazione epocale con Carlos in questa settimana. In un momento di sconcertante sincerità, Carlos confesserà finalmente a Candela la verità amara, sua figlia Casilda è stata portata via per lavorare a Gion. Carlos desidera partire con lei, in modo inaspettato, l'aiutante di cucina si offre di accompagnarlo. La coppia si prepara per un viaggio a Gion, portando con sé segreti e rivelazioni cariche di emozioni. Non tutto è come appare, poiché Candela nasconde il suo vero sentimento per Casilda. Nell'apparenza, farà credere a Carlos che sua figlia le stia particolarmente a cuore. Tuttavia, la verità si annida nel suo cuore, e presto rivelerà la realtà a Simona, una giovane donna viziata e audace. Il Palazzo della Promessa continua a tessere l'ingannevole trama dei desideri, delle menzogne e delle emozioni taciute. Questi eventi, in rapida successione, aggiungono ulteriori profondità all'intricata trama della promessa. Dimostrando ancora una volta che le passioni e i segreti dei suoi abitanti sono come intricati fili d'oro, intrecciati in un disegno complesso di vita e destino. Candela è disposta a compiere un sacrificio straordinario, poiché ha riscoperto l'amore per il professore. In questa settimana, Candela compirà gesti straordinari e inusuali, come suggeriscono le sue eccentricità occasionali. Sta pianificando segretamente la sua partenza senza salutare nessuno, utilizzando l'inganno, dichiarando che se ne andrà alla fine del mese. Tuttavia, la sua dipartita sembra molto più imminente di quanto lasci trasparire. Nel frattempo, giunge il momento tanto atteso in cui la malinconica Jimena, conosciuta anche come Lady Lies, elaborerà un piano per fingere la perdita del suo presunto bambino, avvalendosi dell'assistenza del dottore Abel, ad eccezione di Feliciano, il quale non può fare a meno di esprimere la sua felicità per il ritorno di Petra. Questo piano avrà conseguenze devastanti per il signor Manuel, cancellando irrimediabilmente i suoi sogni di paternità e deludendo coloro che avevano riposto fiducia nella sua promessa. La notizia di questa tragedia fittizia scuoterà le fondamenta del palazzo, poiché nessuno sospetterà che si tratti di una menzogna inconfutabile. Jimena, d'altro canto, sperimenterà un enorme senso di sollievo, avendo finalmente liberato un peso che aveva gravato sulle sue spalle per troppo tempo. Sia sua madre, Dona Mercedes, la duchessa dei infanti, che il dottore Abel, la incoraggeranno a protrarre l'inganno per un periodo maggiore. Tuttavia, il suo atteggiamento solleverà sospetti, con anche inizierà a dubitare della veridicità della storia. Quando il gioco sembra più vicino che mai e l'atteso momento è finalmente giunto, la languida Jimena, conosciuta anche come Lady Lies, si prepara a mettere in atto il suo elaborato inganno. Con la complicità del dottore Abel, questo intricato piano getta un'ombra sul signor Manuel, vanificando i suoi sogni di diventare padre. Lo stesso destino attende coloro che avevano nutrito speranze in questo evento, e la notizia della perdita del bambino li riempirà di tristezza. Tuttavia, essi non sono a conoscenza che questa è, in realtà, una menzogna irreversibile. Jimena stessa mostra un grande sollievo, avendo finalmente liberato un peso che aveva gravato sulle sue spalle per troppo tempo. Sia sua madre, Dona Mercedes, la duchessa dei infanti, che il dottore Abel, le chiedono di mantenere l'inganno per un po' più a lungo. Ma il suo atteggiamento inizia a suscitare sospetti, in particolare nell'osservatore Attento Anne, che inizia a dubitare della veridicità dell'intera storia. Nel frattempo, nell'aria si diffonde l'odore di un inganno, e Dona Cruz desidera che il dottore Abel lasci il palazzo il prima possibile. Tuttavia, sia Manuel che sua madre Mercedes riescono a convincere Manuel a far rimanere il dottore, poiché è l'unico in grado di mantenere il segreto di Jimena. Cambiando argomento, Anne si prepara a consegnare 40.000 euro al signor Manuel, un gesto che gli permetterà di affrontare sua madre in un confronto diretto. Insegnandole l'importanza della verità. La Marchesa, ormai costretta dall'inasprirsi delle circostanze, sarà costretta a confessare la sua conoscenza di Ramona, anche se le probabilità sono che condividerà solo una minima parte della verità. Questo solleverà i dubbi di Anne, che condividerà le sue inquietudini con suo fratello, sospettando che la Marchesa sia coinvolta nella misteriosa scomparsa di Ramona. Infine, giunge il giorno in cui Pia si congeda con commozione da suo figlio Dieguito, che sarà affidato alle cure di Benny, la moglie del mugnaio, per garantirgli una crescita più stabile. Tuttavia, si insinua il dubbio se Candela, che aveva inizialmente annunciato la sua partenza dalla promessa, possa invece decidere di rimanere per prendersi cura di Dieguito. Gli sceneggiatori sembrano aver riservato qualche sorpresa, lasciando il destino di Candela sospeso tra partire o restare. Quale sarà la sua decisione? Questi sono gli avvenimenti della settimana. Vi diamo appuntamento sul canale per ulteriori aggiornamenti. Un caloroso saluto! Grazie a tutti!